Fino al 23 marzo l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino è allestita alla mostra Madonna in Piemonte. L'esposizione, curata dalla parrocchia torinese di Sant'Antonio Abate, propone una ventina di fotografie di statue mariane provenienti da tutta la regione. Dalla Consolata di Torino alla Madonna del Melograno del Battistero del Duomo di Chieri, dalla Madonna dello Schiaffo della Cattedrale di Sant'Eusebio a Vercelli alla Madonna dei Fiori del Santuario Diocesano di Bra. Abbiamo cercato di individuare specialmente nella festa dell'8 marzo della donna, di far vedere come la Madonna non è avulsa e fuori dal movimento femminile, anzi è inserita perché è una delle grandi donne delle file di Giorolemme che hanno portato la salvezza e hanno portato il senso nella presenza del Signore. Noi abbiamo costruito questa piccola mostra proprio per dare senso nuovo al valore e all'importanza della donna a partire dalla Madonna.